no madonna ma se sei fuori no no lo sto facendo lo sto facendo no why you did it ma giacallo tu sei già dentro oh no no l'avevo uscita indietro che brutta cosa glaz ne fatti due che schifo che facciamo non so se sei già entrato bado alberto madò bravo cavolo sono qua eh a destra l'ho visto oh che kill mio dio vabbè sono morto per mutare what are you doing oh che cazzo fa oh le c'è c'è madonna spaghetti ma come fa a colpire metterla ma come fa a colpire metterla f***a stavo scrivendo a capelli quando ho buttato tutte le smoke erode allora lui è bene io mi abbasso eh sì tu ca mi vuole uccidere ok l'ucciso per si eh 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 oh 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 che cazzo sto vedendo non è vivo si è vivo le ho fatto a shot se no c'era anche vabbè eh stavi da me stai sparando con una granata impatto altro che chi vabbè volevo giocare banca banca cosa? eh ma cosa? no e ne abbiamo skipate tipo 5 tutte favelas e canal e mi sembra una chiara clap out cheat vincchia non so che qui vai via vai via da qui è entrato he wants to do the ace don't kill the others ok the last one nope we'll read him no si è buggato l'audio no let's check out holy